Un artista lecchese protagonista alla Biennale di Venezia. Francis Nathan Abiamba in arte Afran, 32 anni, originario del Camerun, a Lecco da quasi dieci. Suoi gli affereschi al Don Guanella, i volti dipinti in via Carlo Porta e tante altre opere. Tra i 79 artisti provenienti da tutto il mondo, presenti alla Biennale, che si è aperta l'11 maggio e si chiuderà il 24 novembre, dunque anche Afran, con tre opere. Basso rilievi esposti nella collettiva Peace World, a Brief History of a Chinese Gallery in Italy, presso lo spazio Tetis. L'occasione è la collaborazione con la galleria di Peiuxo Yang, artista cinese. Il contributo di Afran, che anche questa volta ha deciso di non abbandonare quello che potrebbe essere definito il suo materiale preferito, ovvero il jeans, si inserisce nel progetto insieme ad altri cinque lavori di artisti provenienti da altri paesi. Il ritratto diviene quindi un pretesto per raggiungere quello che, secondo Afran, è il vero fine della sua arte, ovvero entrare in contatto, costruire rapporti umani che vadano al di là dell'opera. Per me, essere presente alla Biennale è un'emozione grandissima, un palcoscenico mondiale, che lascia senza fiato, spiega Afran, che aggiunge, «Devo anche ad ecco la mia crescita artistica». Grazie. Grazie.